Sarà una stagione davvero strepitosa, noi abbiamo già dei dati molto non confortanti ma entusiasmanti direi perché il primo trimestre 2023 già ci porta un più 40% rispetto al primo trimestre 2022 il che significa che dobbiamo essere bravi ad accogliere questi viaggiatori, molti di questi una grande percentuale rappresentata da turisti li dobbiamo saper coccolare e le amministrazioni locali chiaramente devono supportare questa presenza di turisti con dei servizi adeguati la Sicilia è davvero bella dal punto di vista naturalistico, offre un patrimonio artistico-culturale meraviglioso offre questo mare che non si deve aggiungere altro, basta guardarlo quindi abbiamo tutte le capacità, tutte le condizioni, è chiaro che dobbiamo fare sistema per dare sempre più un'offerta turistica completa e soprattutto inclusiva Per un definitivo salto di qualità, quale sono le criticità da affrontare ancora oggi? Certamente noi appunto diciamo che i turisti stanno arrivando, stanno arrivando proprio perché la Sicilia è una terra meravigliosa è una terra che fa sognare, è chiaro che se noi andiamo a completare e ad eliminare certe criticità vedi i collegamenti per esempio, non solamente i collegamenti aerei ma anche i collegamenti interni è chiaro che aiuteremo ancora di più questo flusso turistico, questa voglia di tornare in Sicilia e diciamo che questo lo dobbiamo fare nell'interesse dell'economia siciliana perché il turismo è il vero motore dell'economia Il ponte si farà? Diciamo che ci sono le condizioni, c'è una grande volontà, lo ha dimostrato il Parlamento ieri o l'altro ieri ed è assolutamente un'opera strategica, certamente non per unire la Sicilia alla Calabria ma davvero strategica a livello europeo, a livello mondiale quindi è una grande occasione che finalmente vogliamo vedere concretizzata